sono le sei meno dieci e lascio santa sofia per arrivare a bagno di romagna spero di farcela oggi perché ieri sono arrivato con un dolore abbastanza forte alla parte alta della caviglia sinistra tendinite quasi sicuramente un dolore abbastanza forte alla parte alta della caviglia per niente facili uomini sempre poco allineati li puoi chiamare ai numeri di ieri se nella notte non li avranno cambiati per niente facili uomini sempre poco affezionati li puoi pensare nelle strade di ieri se non saranno rientrati 5 minuti fa ho mandato affanculo un ipnotizzato mascherato che da solo guidava in macchina mi è passato a fianco senza rallentare e mi ha impolverato completamente non riscuotre nessuna fortuna sarà la musica che gira intorno quella che non ha futuro sarà la musica che gira intorno saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro buongiorno per un passo del carnaio non è questa la strada si perché non trovavo più le indicazioni qua per quello ciao e che si ferma ancora ad ogni lampione o fa una musica senza futuro non ha capito mai nessuna lezione sarà che l'anima della gente funziona dappertutto come qui sarà che l'anima della gente non ha imparato a dire ancora un solo stile sarà la musica che gira intorno quella che non ha futuro sarà la musica che gira intorno saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro che sto attraversando San Pietro in bagno ci sono arrivato in autoscop a passo del carnaio io ho cominciato ad aver male di nuovo al piede e la discesa era quasi insopportabile camminare così il piano va bene salita andrebbe ancora meglio ma una piccola discesa con dolore saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro sarà la musica che gira intorno quella che non ha futuro sarà la musica che gira intorno o saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto sarà la musica che gira intorno a tutti